Vabbè, io comunque da un'altra parte capisco, perché lui è un tipo che inspiegabilmente poi, quello non lo capisco veramente, però è uno che riesce a incantare, capito, a influenzare. Allora lui ha deciso la casa, allora prendete la casa. Non ha deciso lui, abbiamo deciso insieme. Ah, ha deciso insieme di comprare... Come mai che avete problemi? Problemi? No, perché? Se uno sta bene insieme non capisce perché deve andare a prendere una... Uno dice viviamo insieme quando vuol dire che le cose non vanno... Infatti poi quando è peggio uno dice perché non ci sposiamo? Se proprio cominciate che non ce la fate più, ci facciamo un figlio così, quando alla fine vi odiate ma siete vecchi, dice che ci lasciamo adesso che siamo vecchi. E' quello il percorso. Sì, sei incoraggiante. Vabbè, incoraggiante.